Per me per ballare è per esprimere una lingua che non puoi dire con parole. È una cosa che si sente dentro e è una cosa che deve uscire fuori. Per me tutti sanno ballare, tutti, e ognuno del loro stile è unico e particolare a se stessi. E' solo che alcuni sono più sviluppati degli altri. Non significa che uno è più importante dell'altro. Tutti sono di importanza uguale. Che vuol dire ballare? Ballare è per ascoltare il cuore. Perché abbiamo dentro tutti noi questo ritmo del cuore. E' una cosa proprio che abbiamo in comune. Per ballare è per ascoltare quel ritmo e condividerlo con gli altri.